Parte da qui dalle campagne cortonesi l'ascesa nell'orimpo del reining di Adriano Meacci, preparatore delle squadre azzurre ai campionati mondiali di Ginevra. Io mi sono avvicinato a questa disciplina proprio prima di tutto quando ho visto questo cavallo. Ho visto questo cavallo, era il prototipo del mio ideale, di come doveva essere costruito un cavallo per lavorare. Tutto nasce dalla passione per i cavalli, prima con le gare hippiche, poi negli anni 80 all'incontro con il mondo del reining, disciplina tutta western. Ho iniziato a vedere questo cavallo che si muoveva in maniera, dal mio punto di vista, affascinante e quindi da lì ho iniziato a ricercare di imparare, di imparare ma soprattutto di avere in casa tipologie di cavalle così. Reining significa letteralmente lavorare di redini, tra infatti le sue origini dal lavoro con il bestiame svolto dai cowboy che utilizzavano i cavalli per radunare e contenere le mandrie di bovini. Arriva ovviamente dallo sviluppo e dalla rifinitura del cavallo da lavoro. Quindi il cavallo da lavoro che lavora con la mandria esegue certi esercizi che gli servono appunto per separare o andare a riprendere i vitelli proprio inteso come lavoro e da lì ovviamente è stato interpretato questi movimenti, sono stati ripuliti, rimodificati. Potenza, equilibrio ed armonia, le qualità ricercate nei cavalli quasi esclusivamente di razza Quartet Horts. È costruito benissimo, è bilanciato benissimo, ha piombi giusti, incollatura, groppa, importante. Infatti se lo vedi muovere, si muove con una leggerezza eccezionale e a grossa altitudine. Adriano Meacci è il preparatore atletico delle squadre azzurre, amatori e professionisti. Ai campionati mondiali di Ginevra ha conquistato tre medaglie d'oro, un argento e un bronzo. Un record assoluto. L'inno è una cosa che mi mette i brividi anche adesso ovviamente. Noi siamo abituati a far gare perché le facciamo tutti gli anni, tantissime. Però quando corri per la nazione è una gara diversa. Di conseguenza veramente hai addosso una responsabilità che senti al di là di te stesso, la senti proprio per la tua nazione. Quando le cose poi funzionano e vanno come sono andate, sentire l'inno è veramente... A distanza di un mese ancora oggi con i ragazzi ci sentiamo tutti i giorni perché quei momenti rimangono per sempre. Il reining è definito spesso come il dressage della monta western, riduttivo però, chiamarle i cowboy. Secondo me è poco richiudere quello che facciamo nella parola cowboy, anche se comunque hanno fatto la storia e tanta dell'equitazione arriva da loro. Siamo cowboy, però poi chi ci conosce fino a un fondo sa che siamo anche persone che hanno un'etica sul cavallo, una gestione del cavallo quasi maniacale e che abbiamo destinato, molti che fanno questa disciplina è diventato uno stile di vita perché ti riempie, ti completa e poi non hai mai finito. Quindi noi addestriamo i cavalli, io ho scambi anche con i colleghi che fanno altre discipline, provando i nostri cavalli e l'addestramento che c'è sopra e subito dopo non ci chiamano più cowboy, ci chiamano cavalieri. Grazie per la visione!